Ci apprestiamo alla nuova edizione del presepe vivente di Custonaci, un'edizione ancora una volta che richiamerà migliaia di spettatori per vedere una manifestazione unica nel suo genere, tant'è vero che la regione siciliana l'ha reintrodotta tra i 100 grandi eventi dell'assessorato al turismo. Ed è un momento che ovviamente è importante per la nostra città, per il nostro territorio perché richiama a partire dal centro storico, perché ancora una volta si ripartirà dal centro storico attraverso De Bussinavetta per poi andare a visitare proprio la grotta vera e propria, attraverso tutta l'allestimenti che ci riportano nella Sicilia dell'Ottocento. Un viaggio nel tempo è lo slogan tradizionale di questa manifestazione, perché? Perché i visitatori avranno l'opportunità di rivedere, di riconoscere quelle attrezzature, quelle suppellettili, quelle tradizioni da tanti punti di vista, materiali e immateriali che hanno fatto della nostra isola un riferimento nel Mediterraneo, in particolare dall'Ottocento fino ai primi del Novecento. È una manifestazione ovviamente al chiaro richiamo turistico, ma è evidente che essendo un presepe vivente c'è un aspetto di carattere anche religioso, spirituale, ecco perché partire dal centro storico ai piedi del nostro santuario mariano per fare ecosintese, sinergia e rete tra due luoghi importantissimi nel nostro territorio, il centro storico, nei giardini comunali, dove peraltro in questo momento ci troviamo, quindi ai piedi del santuario e poi con queste Bussinavetta, come dicevo prima, si arriva a due passi dalla Grotta Mangiapane. Grotta Mangiapane che non vi nascondo che voglio spingere attraverso un dossier presentando l'amministratore della cultura nelle prossime settimane per lanciare l'idea del riconoscimento UNESCO, perché? Perché la fascia del paesaggio che va dalla riserva di Monte Cofano fino a due passi a quella della Grotta Mangiapane, ecco diventa un riferimento importante e per la bellezza dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, compreso il Golfo di Cornino, ma soprattutto per la storicità da tutti i punti di vista della Grotta Mangiapane. Quindi un luogo che dal paleolitico superiore è sempre stato abitato dall'uomo fino ai giorni nostri e che negli anni è stato studiato da figure importanti del mondo della scienza per l'aspetto preistorico dal punto di vista entroantropologico. E oggi addirittura set cinematografico e televisivo. Recentissimamente è andato sul Rai 1 con i Leoni di Sicilia e proprio in queste settimane hanno registrato ancora una volta le riprese di Macari in quel sito. Quindi come vedete c'è tutto un ragionamento dietro per valorizzare un luogo, una manifestazione, per valorizzare un territorio nel suo complesso che sugli aspetti di carattere turistico vuole scommettersi e vuole puntare veramente in maniera importante per tracciare una linea verso il suo futuro.